Il Comune di Arezzo è nuovamente pronto a chiedere i danni per il crack di Banca Etruria. Sarà infatti presentata la richiesta di costituzione di parte civile nel processo per la banca rotta che si aprirà il prossimo 2 aprile. Perché la città complessivamente ne ha ricevuto un danno. In parte un danno d'immagine per tutte le notizie che ovviamente essendo negative hanno comportato un giudizio negativo sulla città da parte di operatori, di turisti e di persone che hanno letto sul giornale questa nostra brutta storia. E poi per una sostanziale perdita di chance da parte degli imprenditori perché il mercato ha comunque subito un rallentamento significativo per effetto del fallimento della banca. E inoltre per tutto quello che nonostante ci sia un nuovo operatore interessante, interessato, di grande rilevanza, la banca territoriale aveva anche negli anni passati dato contributi significativi su quelle che sono le attività turistiche e soprattutto culturali della città. Ricordiamo una per tutte il restauro di affreschi di Piazza della Francesca fatto da Banca Etruria a fine anni 90. Bene, tutto questo è venuto meno e quindi tutto questo significa una perita di chance per tanti operatori. Si tratta del secondo tentativo. Il comune di Arezzo aveva già presentato istanza nel 2017 ma era stata respinta. Adesso tutto passa nelle mani dell'avvocato fiorentino Lorenzo Zilletti che sta preparando tutta la documentazione. Siamo in una nuova fase processuale, non c'è più un organo monocratico che deve prendere la decisione, ma un collegio. E avendo avuto già un diniego nella prima istanza ci riproviamo con una competenza specifica con un professore universitario. Il procedimento prenderà avvio dunque la prossima settimana. Si tratta di un vero e proprio maxiprocesso con 25 imputati, un ex presidente e Rosi, due ex vicepresidenti, Inghirami e Guerrini, ai quali si aggiungono ex amministratori e dirigenti di Banca Etruria, accusati a vario titolo di bancarotta semplice e fraudolenta. Circa 2.000 invece le parti civili già costituite, in gran parte risparmiatori azzerati. Non mancheranno infine anche nomi eccellenti tra i testimoni, tra questi anche vertici di Banca Italia e il direttore del fondo interbancario.